La grotta è una delle due grandi grotte al mondo, questa che si può visitare turisticamente. La formazione è il risultato dell'escavazione da alcune grandi grotte al mondo, che stavano in questo modo. La acqua è arrivata dalla cava da quella e dall'altro, e la connessione di questi due grandi grotte al mondo, era possibile creare e creare queste grandi grotte al mondo. Grazie. 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 Grazie.